Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. Le carni lavorate sono cancerogene, vanno inserite nel gruppo 1 delle sostanze che causano il cancro a pericolosità più alta come il fumo e il benzene. Lo afferma l'International Agency for Research on Cancer dell'OMS dopo una revisione di tutti gli studi sul tema. Una notizia che è protagonista oggi e che sta creando un certo allarmismo ovviamente. A rischio, secondo le informazioni, anche le carni rosse non lavorate da inserire tra le probabilmente cancerogene. Gli oncologi avvertono un invito a tornare alla dieta mediterranea. E proprio oggi, dopo queste notizie decisamente allarmanti e preoccupanti, è intervenuto anche il Kodakons che ha presentato un'istanza al Ministero della Salute ed esposto al PM Guariniello affinché siano valutate misure a tutela della salute umana. Un turista ungherese che girava per piazza San Marco a Venezia a bordo di un motorino elettrico a due ruote è stato fermato e multato dagli agenti della Polizia Municipale. All'uomo è stata fatta una multa di 100 euro. Nonostante abbia sostenuto che il veicolo gli serviva a sopperire a problemi fisici di mobilità, il turista è stato sanzionato perché nessun mezzo a motore è autorizzato a circolare nell'area monumentale di San Marco. I carabinieri di Padova hanno eseguito un nuovo sequestro della pericolosissima droga definita droga del cannibale, una sostanza che crea effetti devastanti. Ieri mattina è stato fermato un soggetto sospetto nell'area della stazione ferroviaria. Dentro lo zaino che aveva con sé l'uomo stava trasportando proprio questo tipo di droga chiamata sciabo. È una sostanza stupefacente che generalmente viene spacciata da cittadini orientali. Parliamo di un incidente avvenuto questa mattina lungo l'autostrada A4. Uno dei conducenti è rimasto intrappolato nella cabina del mezzo e è stato salvato dai vigili del fuoco. I vigili del fuoco sono intervenuti lunedì mattina alle 10.45 lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Vicenza Est e Ovest in direzione Milano per un tamponamento tra un camioncino Nissan e un autotreno Volvo. I pompieri di Vicenza hanno liberato uno dei conducenti che era rimasto intrappolato nel mezzo. I pompieri con l'ausilio dei divaricatori e delle cesoie idrauliche hanno liberato l'uomo, un albanese di 42 anni residente a Padova. La cabina dove si trovava era deformata e le operazioni di salvataggio sono state impegnative ma con grande abilità i pompieri sono riusciti a liberarlo e consegnarlo al personale del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale. Sul luogo la polizia stradale e il personale ausiliario di viabilità dell'autostrada Brescia-Padova. Oggi sconosciuti hanno manomesso la centralina del tram a Venezia. Un atto vandalico sul quale sembra non esserci dubbi. Un atto che ha provocato il blocco del mezzo nel primo pomeriggio di oggi. Subito sono iniziati i lavori per ripristinare i guasti e riavviare il servizio. Mentre sono in corso le ricerche per individuare i responsabili. Secondo alcune testimonianze si potrebbe trattare di alcuni ragazzini che sarebbero stati visti in zona. In via salvo d'acquisto a Padova si sono presentati degli sconosciuti alla porta di casa di una donna di 80 anni. Hanno chiesto di entrare per un controllo perché sostenevano che in zona erano stati compiuti dei furti. In realtà si trattava di una truffa. Peraltro non è la prima volta che viene compiuta in questo modo. Approfittando della buona fede della donna Queste due persone sono entrate in casa ma hanno rubato oggetti di valore quantificati per almeno 10.000 euro. Quando la padrona di casa si è accorta della realtà ormai era troppo tardi. Ha chiesto aiuto alla polizia che ha raccolto gli elementi utili alle indagini. Numerosi gli incidenti stradali avvenuti tra sabato e l'alba di oggi. Non ci sono state fortunatamente vittime ma sono numerosi i feriti nei vari scontri. Nelle ultime 48 ore sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in seguito a incidenti stradali avvenuti sulle strade del Veneto. Poco dopo le 3.30 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti per uno scontro in via Mantegna a Tombolo. Un'autovettura Volkswagen Polo con due uomini e due donne ventenni di San Martino di Lupari è uscita fuori strada andando a sbattere contro gli alberi adiacenti la strada. Subito dopo l'impatto i due ragazzi sono usciti mentre le ragazze sono rimaste intrappolate dentro il veicolo. In pochi istanti il mezzo si è incendiato e le due giovani sono state salvate da alcuni residenti accorsi dopo essere stati svegliati dal botto. I vigili del fuoco hanno spento l'auto mentre i quattro ragazzi sono stati portati dal 118 all'ospedale di Cittadella. Sul posto i carabinieri per i rilievi della dinamica dell'incidente. Intervenuti nella notte tra sabato e domenica per altri due incidenti stradali. Il primo alle 2.40 in via Chiesa Nuova a Padova, un uomo di 24 anni alla guida di una Ford Ka dopo aver perso il controllo dell'auto è andato a sbattere prima contro lo spartitraffico e successivamente contro delle fioriere che delimitano l'ingresso di un bar. Il ferito è stato trasportato in ospedale. I vigili del fuoco di Padova hanno messo in sicurezza l'auto e il luogo. L'altro incidente è alle 5 in via Colombina a Isola Mantegna dove due ragazzi a bordo di un appunto sono usciti fuori strada andando a sbattere contro un albero adiacente la strada. Sono stati presi in cura dal 118 e portati all'ospedale. I pompieri di Cittadella hanno messo in sicurezza il mezzo e il luogo. Poco prima delle 6 di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vallancon lungo la strada regionale 10 a Ospedaletto e Uganeo per un incidente tra un'auto e un camion dove è rimasta ferita una donna. Nell'urto tra i due mezzi una donna di 42 anni è rimasta bloccata all'interno di una Peugeot 208 mentre l'auto articolato che trasportava Rotoballe si è rovesciato su un fianco. I pompieri hanno estratto la donna dall'abitacolo che è stata presa in cura dal 118, illeso l'autista del camion. A Vigonza in provincia di Padova questa mattina un uomo è caduto al suolo colto da un malore fatale. Probabilmente si è trattato di un attacco cardiaco, un infarto. Stava camminando quando è caduto esamine a terra. Sul posto è intervenuto il 118 ma ogni tentativo di salvataggio è stato inutile. La tragedia è avvenuta sulla strada di via Barbariga, il tratto che porta verso la stazione ferroviaria di Vigonza. Un luogo abbastanza tranquillo dove si trova una pista ciclabile che in molti utilizzano per passeggiare o correre. Dopo il grave allarme lanciato dall'OMS sulla pericolosità di alcune carni lavorate che risulterebbero cancerogene, ne abbiamo parlato in apertura al nostro Tg, il Codacons ha deciso di presentare un'istanza urgente al Ministero della Salute e un esposto al pubblico, Ministero di Torino, Raffaele Guariniello, affinché siano valutate misure a tutela della salute umana. L'OMS non lascia spazio a dubbi e individua le carni lavorate tra le sostanze cancerogene al pari di fumo e benzene, spiega il Presidente Carlo Rienzi. Parliamo di sanità, lo facciamo però queste volte in maniera diversa. Parliamo della WIC Surgery, una novità che arriva dall'ospedale Sant'Antonio di Padova, quello di Via Facciolati. Si chiama WIC Surgery ed è un'innovazione dell'ospedale Sant'Antonio di Padova. Si tratta di una super area chirurgica per quei pazienti che dopo un intervento necessitano di una degenza di 5 giorni. Le aree coinvolte sia per interventi mini-invasivi che invasivi riguardano chirurgia, urologia e ortopedia. In sostanza riguarda quei pazienti che entrano a lunedì ed escono dalla struttura sanitaria al venerdì. Un nuovo concetto di intervento e ricovero che rivoluziona le liste d'attesa ma che influisce in maniera impattante sui costi sanitari riducendoli. Il nuovo sistema introduce inoltre un metodo di intervento programmato per il paziente che dovrebbe portare ad una maggiore efficienza nei suoi confronti. Metri cubi di roccia si sono staccati la scorsa notte da una cresta che sovrasta la frazione di listolade di Taibona-Gordino senza provocare fortunatamente alcun tipo di danni a immobili o alle persone. Il fenomeno, hanno spiegato i vigili del fuoco, è avvenuto in un'area di alta montagna dove non ci sono manufatti. L'intervento dei pompieri perciò si è limitato a una documentazione fotografica di quanto accaduto. Sotto la minaccia di una pistola, un cacciatore è stato costretto a liberare le allodole che teneva nelle gabbiette come richiami e consegnare allo sconosciuto che lo teneva sotto tiro il fucile e le chiavi dell'auto. È accaduto ieri nelle campagne trevigiane al confine di Zero Branco. Il cacciatore, un uomo di 59 anni, si è trovato di fronte a un uomo in sella ad una bici con il passamontagna in testa che ha estratto una pistola e gliel'ha puntata contro. Con voce decisa, lo sconosciuto ha intimato al 59enne di dargli fucile e di liberare in particolare le allodole. Poi ha preteso anche le chiavi dell'auto prima di fuggire pedalando lungo la strada sterrata. All'uomo non è rimasto altro che denunciare quanto accaduto ai carabinieri. Gli artigiani digitali trovano casa nell'ex villa di Felice Maniero. Inaugurato il primo laboratorio in Italia per la fabbricazione digitale è stato insidiato presso il bene confiscato alla mafia. Ne avevamo già parlato in passato e adesso è diventata realtà. Sentite di cosa si tratta. È realtà il primo laboratorio per la fabbricazione digitale Fab Lab insediato presso un bene confiscato alla mafia. Ospitato nella villa posseduta dal boss della Malla del Brenta Felice Maniero a Campolongo Maggiore poi confiscata, il Fab Lab ha l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per la culturazione e la sperimentazione delle nuove tecnologie di fabbricazione digitale. Aperto agli artigiani, ai maker, agli studenti e a tutti gli appassionati dell'area compresa tra la provincia di Venezia e Padova punta a diventare un nuovo punto di aggregazione per Riviera del Brenta e Piovese. Il laboratorio è dotato di diverse attrezzature e macchinari per la fabbricazione digitale stampanti 3D, laser cutter, fresa controllo numerico ed è uno spazio aperto per tutti quelli che vogliono apprendere e sperimentare concretamente le potenzialità del digital manufacturing, sviluppando nuove idee progettuali, realizzando prototipi e producendo piccole serie. Gli ambiti e i settori di interesse di affari puliti 3D sono veramente molteplici, spiega Paolo Bordin, presidente di Crazy Lab e direttore di affari puliti, che gestisce il laboratorio. Si può spaziare dalla produzione di gioielli alle biciclette, all'architettura e tanto altro. Inoltre il laboratorio vuole rispondere prima di tutto alle esigenze e fa bisogno alle curiosità che emergeranno dalla comunità locale, costruendo con gli impreditori, gli artigiani e i maker interessati, processi di approfondimento e sperimentazione condivisi. L'iniziativa è promossa dal Crazy Lab ed è ospitata dall'Associazione Affari Puliti in partnership con il Comune di Campolongo Maggiore. Le imprese del nord-est cominciano a vedere la luce dopo la lunga crisi economica e così per buona parte degli imprenditori la crescita di quest'area sarà più rapida che nel resto del paese. Il 37,6% di questi ritiene che il Triveneto crescerà stabilmente entro un anno e solo il 26% crede invece che ciò avverrà negli stessi tempi che nel resto d'Italia. Sono alcuni dei risultati dell'opinion panel svolto dalla fondazione nord-est su un campione selezionato di 300 titolari di imprese. Per il 70,4% degli intervistati invece il nord-est crescerà stabilmente entro due anni mentre per il 15,3% la ripresa è già in atto. Ed ora uno sguardo alla situazione climatica prevista sul Veneto per la giornata di domani. Avremo in prevalenza tempo soleggiato con tendenza all'aumento della nuvolosità verso la fine della giornata. Foschie e nebbie nelle ore più fredde sulla pianura e in alcuni fondovalle. È tutto per questa edizione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci a domani. Arrivederci a domani.